Ben ritrovati, ben ritrovati, buona domenica. Allora, nei giorni scorsi ho letto questa espressione, il metodo Amadeus. Subito, ovviamente, il mio pensiero è andato al popolare, al conduttore televisivo, e questo metodo corrisponde proprio al suo modus operandi, in quanto c'è un personaggio che da giorni sta monopolizzando l'informazione tirando fuori nomi di persone che sarebbero potenzialmente coinvolte con lo scandalo scommesse, una sorta di dosare, dosare davvero gradualmente i nomi. Oggi ne tiro fuori uno, domani due, dopo domani altri due. E così, perché si arriva al cosiddetto ormai metodo Amadeus? Perché Amadeus, durante il festival, quando presenta la classifica, dice al ventesimo posto X, poi passa qualche secondo, diciannovesimo caio, e via discorrendo. Già questo, no? È abbastanza grossolano su quanto stiamo vivendo. Però, in generale, si sta trattando questo scandalo, o presunto scandalo, per certi interpreti, dopo ci arriviamo, in maniera del tutto incivile, considerando soprattutto il blasone del paese in cui viviamo, in cui io vivo. E ne ho dito che magari ci possa essere la spettacolarizzazione su calcatori che non sono neanche ufficialmente indagati, e magari neanche mai lo saranno. Il caso Zalensky, tirato fuori il suo nome da un personaggio, ma ufficialmente non indagato. C'è di più. C'è chi dice, basti vedere la ricostruzione di Repubblica di ieri, che al momento il suo nome non sia nemmeno nella lista degli inquirenti. Però, per l'opinione comune, Zalensky già corrisponde al male assoluto. Ribadisco, non è neanche indagato. Al momento. Poi se lo sarà, racconteremo la cronaca. Ma al momento, Zalensky non è indagato. Però il suo nome viene associato a un tema, e di riffo di raffa, l'immagine viene già automaticamente rovinata. Poi ho letto anche che l'enturaggio di Zalensky vorrebbe tutelarsi denunciando chi fa ill'azione e quant'altro. Vedremo. Però, resta il fatto che noi ufficialmente abbiamo tre calciatori indagati, Fagioli, Tonali e Zaniolo, più un altro tirato fuori da un personaggio che non è ufficialmente indagato, ma che mediaticamente viene trattato come se lo fosse. Ecco, già questo deve darci l'idea di cosa stiamo vivendo. Poi, Tralasciando il discorso sportivo e passando più sul penale, noi non dobbiamo dimenticarci che parliamo di una indagine in piena evoluzione. E quindi tutte queste voci che escono vanno a inquinarla, indagine, e a condizionarla pesantemente. Perché, lo ribadisco, questa non è un'indagine che viene effettuata per fare luce sui personaggi appartenenti al mondo del calcio, sul loro privato, e su come trattino l'argomento scommesse. Questa è un'indagine che va oltre, che va sopra le teste di queste persone che evidentemente vuole andare a cercare a pinzare qualche personaggio, eufemismo, poco raccomandabile. Poi, da lì, se si va a indagare, si trovano siti clandestini, e da questi siti clandestini si collegano poi utenti, e da questi utenti, tra questi utenti ci sono dei calciatori, è una scala. Però non è che poi il mirino fosse puntato da parte in chiave in quest'indagine sul mondo del calcio, tutt'altro. È ovvio, e poi dal momento che emergono determinati nomi e che hanno un certo tipo di modus operandi o potenzialmente avrebbero agito in una maniera non consentita, è normale che poi la palla passi alla giustizia sportiva. Come è successo nel caso di Fagioli, che è stato ascoltato, se è, tra virgolette, auto-denunciato, ammesso di aver scommesso, secondo le ricostruzioni, sul calcio, questo non si può fare, e quindi, evidentemente, poi Fagioli se ne dovrà assumere le sue responsabilità. C'è chi dice che potrebbe patteggiare e quant'altro, dal momento che viene accertato, che hai sbagliato, te ne devi assumere le responsabilità. Però, poi l'indagine, ovviamente il penale, non è che parte per capire che cosa facesse, nel suo tempo libero Fagioli, e se effettuassero meno delle scommesse. No, è qualcosa di più ampio che deve andare a individuare un certo tipo di sistema con determinate persone, e da questo tipo di sistema con determinate persone si risale ad alcuni nomi. Poi, sappiamo anche che allo stato attuale, sia Zagnolo, sia Tonali, fanno filtrare, attraverso il loro entourage, di non aver scommesso sul calcio, di averlo fatto su altri ambiti. Quindi, questo deve essere accertato dagli inquirenti, quant'altro deve essere dimostrato, vedremo se corrisponde alla verità, vediamo se invece c'è una menzogna. Però, di certo noi sappiamo che ad oggi, e ad oggi intendo domenica, 15 ottobre, abbiamo tre calciatori ufficialmente sotto indagine. Però, c'è sempre questo nome che alleggia di Zaneschi, perché viene effettuato per un determinato personaggio che evidentemente viene ritenuto altamente attendibile allo stato attuale delle cose. però, cioè, a che gioco vogliamo giocare? Perché questo non è un gioco, questo è un argomento molto importante, molto delicato, che va a rovinare il personale, va a rovinare la sfera più intima, va a condizionare pesantemente i sogni dei familiari, degli effetti più cari. io credo che così come stia emergendo questa vicenda stia facendo non il bene né dell'indagine e né poi dei potenziali traguardi che possono essere raggiunti dalla stessa. Perché l'obiettivo da parte poi di tutti è fare chiarezza e se ci sono persone che hanno commesso degli errori i nomi devono emergere, ma con i tempi giusti e soprattutto dagli organi preposti, non con la spettacolarizzazione dell'evento, non con il metodo cosiddetto Amadeus. Ecco, questo lo trovo che sia abbastanza raccapricciante, che non fa onore minimamente al nostro paese. Vediamo, vediamo se uscirà qualcos'altro, perché ci sono anche fior di giornalisti che continuano a sostenere che altri più o meno dieci nomi siano finiti nel mirino degli inquirenti. C'è chi dice invece che chi vuole spettacolarizzare che i nomi siano 50, però vale tutto. Purtroppo siamo entrati in una fase in cui io quotidianamente ricevo su Whatsapp liste di potenzialmente calciatori coinvolti che non si capisce minimamente da dove escano questi nomi se non dalla fantasia di qualcuno che ha nulla da fare se non tentare di rovinare la vita delle persone. Questo non va bene, perché da un momento che si innesca la spettacolarizzazione ogni singolo cretino ogni singolo cretino si sente in diritto magari di poter creare un'illazione con l'obiettivo magari di farla diventare virale. Cioè io trovo che ciò che sta accadendo sia semplicemente allucinante. Semplicemente allucinante. Vediamo. Vediamo come andrà avanti questa vicenda ma davvero ciò che sta accadendo non fa minimamente onore a nessuno e soprattutto fa il male di queste indagini che evidentemente deve andare ancora più sopra nel mondo dei calciatori. I calciatori evidentemente poi dovrà essere dimostrato che abbiano scommesso sul calcio e quant'altro. Sono tra virgolette dei pesci piccoli in una sorta di indagine come questa che parte da tanto tempo. Però intanto nome ovunque questo è.